Un po' a rompere il gaccio, diciamo, sì, l'avvocato ha detto che si farà responsabile di tutto, anche i risultati, non mi presento, anche se magari qualcuno viene da Napoli, o Pampa, perché a Napoli non conoscono così. E quindi, niente, sono molto contento di essere qua, questa è la mia prima esperienza, ho un grande entusiasmo. Non vedo l'ora di iniziare, il gaccio che arriva a telefonata per farla di Paolo Marino, che è riconosciuto in queste zone, poi Nicola, poi stesso Ernesto, quindi al di là dei risultati, a dove vogliamo arrivare, penso che tutte queste parole rappresentano un po' il fatto di ripartire con una immagine pulita. Penso che, visto il momento che stiamo attraversando a livello sociale nel mondo, ma anche in Italia, soprattutto, ma anche a livello sportivo, partire con una pulizia, con essere puliti, con la società, penso che sia la cosa, e anche con i giovani, penso che sia la cosa più bella e più importante. Grazie.